Ecco qua ragazzi, una bellissima coppietta per il nostro amico che è venuto dal Portogallo, eccolo qua, con sua moglie, guardate che bellezza ragazzi, vedete la differenza della femmina che è lì dietro, uccelli bellissimi, intensità di colore, spettacolare, ecco qua. Ecco qua ragazzi, una bellissima coppia, il terra noire, qui abbiamo il malle, per il nostro amico ho sconso un bellissimo malle che viene dal Portogallo, il va avere un bellissimo coppietta del terra noire. Salamu alaykou al Qira, un vero al Shemel, il è portogale, come il è giudano. Come potete vedere i miei amici, un'ottima coppia, ho scelto una bellissima coppia per lui perché è venuto da Portogallo e i migliori coppia sono qui ora, ha una buona linea blu E qui come sempre conosco, il nostro amico Pedro dal Portogallo ha preso una coppia spettacolare della mia selezione Guardate la testa, questi sono anni di selezione ragazzi, vedete c'è anche l'anello top carduelis La femmina è una bellissima femmina, guardate la taglia è enorme Eccoci ragazzi, il nostro amico Pedro dal Portogallo, è venuto, ha preso un grande coppia con il terra Vedete la qualità di oiseo, come potete vedere i miei amici, un'ottima coppia per mio amico Pedro dal Portogallo Il va avere questa linea blu Vedete la dimensione del femmina Vedete la dimensione del femmina Questa è l'anello top carduelis Adesso vi faccio vedere qua davanti La femmina ha finito la muta già La femmina ha finito la muta già Vedete la domanda Per amici Pedro Grazie Grazie.